17, loro mi dicono di ricordare anche del Paglio 2016 è una gaffe, questa è una gaffe allora i detentori del Paglio 2016 loro mi dicono di ricordare che hanno vinto anche il Paglio 2015 sono gli abitanti residenti della zona sud-ovest di Soresina sono bianco-rossi, sono loro, sono quelli di San Rocco e sono infine lì so che un rione così non lo troverai mai siamo di San Rocco, vedrai, non ti mentirai ora l'improvviso venivo rapito col cuore siamo un bel gruppo di eroi, facciamoci amore San Rocco, oh eh San Rocco, oh eh bianco-rosso, ne voglio di più fidelino il migliore sei tu la 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 Sono i detettori, sono loro, si fanno attendere, arrivano, arrivano, sono tanti, sono Biancorsi, ecco il capitano, è lui, a unizio, bisaviglio, saluta il pubblico, ecco entrano i tamburi dei figari. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie.